direi intanto di iniziare così introduciamo questa questa serata ricordo come tutte queste conversazioni organizzate con gli autori che hanno pubblicato con le edizioni enea che oltre a questa diretta live in seguito poi sarà disponibile anche su youtube la registrazione quindi insomma se non riuscite ad arrivare in tempo o dovete abbandonare prima poi sarà nuovamente disponibile e vi arriverà poi il link con la newsletter già da domani intanto presento Elsa Calcagno con molto piacere autrice di un bel tomo per le edizioni enea metodi e tecniche di coppettazione e moxibustione e altre cure esterne secondo la medicina tradizionale cinese approccio integrato l'anatomia e la fisiologia inserito in un percorso psico spirituale per l'armonia di corpo mente e spirito quindi sono un testo molto impegnativo per certi aspetti mi sento di dire per anche per insomma il volume che che ha insomma è un libro che non ha non ha non ha proprio poche pagine superiamo le le 720 pagine quindi insomma un bel è un bel tomo che alterna diverse parti parti diciamo ovviamente tecniche perché è un manuale tecnico quindi che racconta e descrive in modo molto attento e molto preciso queste metodiche c'è una parte molto personale anche molto bella mi sento di dire di Elsa che avvicina il lettore alla sua storia al suo percorso e ai valori ai contenuti alle informazioni che con la sua vita insomma vuole diffondere e vuole trasmettere e poi parti diciamo un po più filosofiche un po più spirituali quindi diciamo un testo proprio a tutto tondo che accompagna in un viaggio molto entusiasmante intorno a una disciplina molto molto antica e mi sento di dire anche molto molto interessante il libro è un manuale come dicevo e corredato da numerose illustrazioni e anche tavole anatomiche in modo da potersi orientare nel migliore dei modi per approcciare le tecniche descritte e poi lavorando al libro ci è venuta cosa che ha anche destabilizzato un po' Elsa l'idea di renderlo ancora più pratico allegando al libro dei video didattici che permettono di vedere nella pratica nel concreto proprio le metodiche descritte quindi insomma coppette stoppini lettini futon e quant'altro per vedere proprio come come ci si approccia dicevo queste a queste antiche antiche metodiche ho dimenticato qualcosa o no no sei stato esaudiente sintetico perfetto è molto bello partiamo dall'inizio come insomma questo libro è nato è nato da un percorso di Elsa che è sempre stata affine a questi argomenti e che in qualche modo un giorno ha avuto una chiamata per per diffondere questo tipo di contenuti contenuti che insomma anche se la coppettazione si può pensare che sia molto diffusa perché fa parte di un immaginario comune abbastanza anche in molti film per dire sì si vede piuttosto che se ne sente parlare però poi parlando con Elsa è emerso che di manuali di testi specifici su questi argomenti in realtà non non ce n'erano quindi il suo desiderio si è volto proprio nel cercare di di raccontare di diffondere questo tipo di informazioni di contenuti giusto sì perlomeno qualche testo relativo alla coppettazione esiste però non vengono spiegate le tecniche eh più che altro è la teoria relativa alla coppettazione qualche protocollo però le tecniche in sé non vengono date mentre il mio intento è quello di far tornare queste tecniche alla portata di tutti in modo che le famiglie riescano a curarsi indipendentemente da dalle spese da dover affrontare per per doversi rivolgere a un terapeuta cioè per prima le insegno che non mi conviene ma le insegno affinché si riescano a curare fra genitori figli marito e mogli senza dover fare ricorso ad alcuno e dico questo è stato fondamentale nel periodo famoso del lockdown che tante famiglie non avevano a chi rivolgersi per le cure eh mi telefonavano io davo indicazioni rispetto ai protocolli e loro fra moxibustione e coppettazione si curavano in famiglia ed è stato un bel successo per chi l'ha voluto imparare ovviamente questa la diffusione che desidero io che avvenga a questo livello perché un qualsiasi terapeuta può apprenderlo frequentando un corso tramite altri colleghi mentre è difficile farlo arrivare alle persone che sono distanti da questi mondi nostri tra l'altro sono tecniche semplici sono tecniche estremamente efficaci sono tecniche alla portata di tutti i risultati si vedono fino alla seconda guerra mondiale fino agli anni settanta anche venivano praticate da persone che non avevano alcun titolo di studi quindi e non vedo perché oggi non si possa riprendere questa bella abitudine è facile la prima tecnica che ho appreso la prima metodologia è quella con lo stoppino è stata proprio la prima in assoluto che mi fu trasmessa dal mio primo maestro insieme alla tecnica nepalese e là già era sorto il desiderio di rendere pubblica di dare a tutti questa tecnica però io non avevo alcuna competenza e lui non non sapeva aiutarmi per cui ho dovuto rimandare parecchio questo sogno e questo mio maestro aveva forse la terza media ma credo nemmeno la terza media arrivasse quindi ed è stato un grande guaritore per per oltre 40 anni quindi dico si può apprendere tra l'altro il tuo percorso a essa è molto articolato e vasto leggo la una parte diciamo della bandella del libro Elsa Calcagno è nata e vive a Messina dove attualmente lavoro anche per è operatore Tao Shatsu Twin A specializzata in massaggio terapeutico sportivo estetico connettivale l'infrodenaggio antropometria e plicometria riflessologia plantare eh tai shanti balance coppettazione e guasha del viso non so come si pronunci non ricordo master pranic healing master in tapping seconda di cina tradizionale cinese master in coppettazione e mox industione insomma il l'elenco della delle tecniche che padroneggi è molto lungo nel suo percorso formativo legato al benessere la guarigione l'autoguarigione si è dedicata anche alle studi dell'autogestesia astro di agnesi lettura dell'aura dalla sua esperienza pluriannale nata l'esigenza di donare le proprie competenze a chiunque desideri migliorare la propria salute e quella degli altri quindi insomma di strada in questo mondo ne hai fatta diciamo che ho corso velocemente per recuperare anni persi quindi tutti tutti i corsi che trovavo li frequentavo perché avevo una sete di conoscenza enorme ora sono in un momento di stasi e mi domando cosa farò da grande ora devo ancora decidere che cosa fare verso l'età del pensionamento ma ci sto lavorando non vedo più intanto mostro no avviato la condivisione così mostro lo vedete tutti tu Elsa lo vedi sì ecco mostriamo qualche qualche stralcio diciamo del del tuo libro l'indice già illustra come insomma il il testo sia strutturato anche in modo molto molto didattico preciso e rigoroso quindi insomma ci si può muovere all'interno del testo attraverso l'indice quindi si parte diciamo dai principi dalle teorie della fisiologia della medicina tradizionale cinese caso di malattia diagnosi e differenziazione delle sindrome come vedete insomma sono tutte bene esposte suddivise nella all'interno del manuale poi passiamo a una seconda parte effetti metodi e tecniche della terapia esterne dove abbiamo le tecniche esterne della medicina cinese con tutta una serie anche qua di cenni sulla fisiologia del sistema nervoso apparato endocrino tecniche esterne anche in questo caso è molto approfondito il testo ci sono numerose tavole anatomiche è molto bello il lavoro che tu hai fatto tra l'altro ci tengo a sottolinearlo che Elsa ci ha fornito un testo praticamente pronto quindi ha lavorato molto bene anche dal punto di vista del lavoro editoriale ecco stiamo parlando di una chiacchierata tra un editore e un autore quindi insomma interessante anche questo questo aspetto su come si sia preso a cura anche proprio della delle tavole ad esempio anatomiche piuttosto che delle delle fotografie da utilizzare come corredo al al libro posso rispetto sì le tavole anatomiche citano che fossero precise per questo ho chiesto a un disegnatore anatomico proprio di realizzarle e lui non aveva mai conosciuto i meridiani non l'aveva mai visti si è messo a studiare i meridiani insieme a me a controllare punto a punto per vedere l'esattezza delle misure sembra appunto che non ci siano errori di misura perché spesso si cerca di far adattare il meridiano alla figura anatomica invece lui proprio ha cercato di rispettare al millesimo le misura ha fatto un lavoro certosino dico magari può capitare di incontrare qualche errore perché sono veramente tante le tavole tanti gli agopunti e ripeto è la sua prima esperienza con meridiani agopunti e lui raffaele patania e devo dire che mh ha fatto mh risposto alla mia richiesta di lavoro ecco è stato preciso rispetto a quello che ho richiesto io ci da nevo a dirlo l'altro è molto interessante questo aspetto ne abbiamo toccato con mano quando abbiamo lavorato quest'altro libro sempre delle edizioni enea una guida pratica la ricerca dei punti di agopuntura che è un un libricino molto molto sintetico ma che contiene un lunghissimo video che un dvd o nella modalità online che poi vedremo che la stessa che abbiamo adottato anche con con Elsa che è molto interessante quando ci abbiamo lavorato perché abbiamo proprio disegnato su dei modelli con dei colori apposta per per la pelle i meridiani ed era interessante vedere come non erano delle righe poi così dritte o così anotonicamente perché ovviamente seguono il corpo con con le ossa con le proprie caratteristiche quindi era molto interessante è molto interessante proprio vederlo dal video e in questa guida pratica in questo video è molto molto evidente quindi è stata una bella sono una bella avventura lavorare anche a quella a quel video tornando al tuo libro qui insomma abbiamo la parte poi più specifica su sulle metodiche che presenti quindi tutti i vari tipi di coppettazione come possiamo vedere la moxibustione e le altre tecniche che poi inserisci nel di cui parli nella nel tuo libro per accedere al al video poi c'è un link una password all'interno del libro che permettono di visionare questo è l'indice del del video corso che ha legato quindi appunto metodi e tecniche di coppettazione metodi e tecniche di moxibustione poi altre tecniche che è martelletto fior di pruno e guascia posso dire una cosa volevo dire appunto che rispetto alle tecniche di coppettazione vengono esposte sia tecniche di coppettazione a fuoco che senza l'uso del fuoco per cui in base alla capacità manuale alla predisposizione ognuno poi può scegliere il tipo di metodologia più consono appunto al alle proprie esperienze ehm coppettazione a fuoco diversamente diciamo da tutti gli altri testi e quasi parla anche della coppettazione a fuoco con stoppino che non viene nemmeno menzionato negli altri testi perché una tecnica ehm molto casalinga non proviene dalla medicina tradizionale cinese come metodologia ma eh da un'esperienza contadina quindi ecco questo è un particolare che manca magari in altri testi anche teorici ecco non viene menzionata questa tipologia qua faccio vedere la proporzione fra il cotone e la boccia eh perché spiega appunto il cotonidrofilo la quantità che va utilizzata in base all'aspirazione che si desidera ottenere insomma come vedete si viene accompagnati passo passo nella scoperta di queste di queste tecniche molto molto antiche giusto? Sì eh oltre cinquemila anni per quanto riguarda la medicina cinese però si sono trovati testi che erano ehm da cui si evince appunto che venivano praticati dagli antichi egizi romani babilonesi cioè sono eh metodologie che sono appartenute a tutte le culture non solo alla cultura cinese dico io ho voluto approfondire la teoria della medicina tradizionale cinese perché l'azione sugli agopunti specialmente per quanto riguarda la moxibustione è fondamentale e eh chi approccia per la prima volta a questi tipi di metodologia ha difficoltà a muoversi fra un parecchi testi io all'inizio dove utilizzare tre quattro testi per riuscire a comporre un protocollo capire come utilizzarla quindi già avere le tavole anatomiche avere eh gli agopunti più importanti su cui agire per le sintomatologie più comuni chiunque può praticarla perché mh la moxibustione specialmente può essere utilizzata eh con semplicità per risolvere problemi di artrosi cervicalgie eh problemi intestinali tantissime sintomatologie così come con l'agopuntura le stesse eh diciamo non dico malattia perché le stesse sintomatologie che si possono curare con l'agopuntura possono essere curate gratuitamente ed efficacemente con la moxibustione in casa questo lo suggerisco a chi ha voglia di migliorare la propria salute infatti mi hai preceduto era la domanda che ti avrei fatto a brevissimo proprio su quali quali erano appunto le casistiche in cui indicavi maggiormente questo tipo di ce ne sono tante non solo questo anche per quanto riguarda tutti i dolori diffusi dagli organi interni ai muscoli in quel caso si lavora a livello riflessologico per riequilibrare l'energia dell'organo e possono essere utilizzati per nevralgie eh come può essere un trigemino cioè io mi ricordo da ragazza ecco questa cosa a me ha colpito tanto c'era il nonno di mia cugina dal trato che soffriva col trigemino terribilmente e io ogni volta che lo incontravo mi veniva un calore fortissimo nelle mani ancora ero assistente sociale allora però mi veniva questo calore fortissimo avevo voglia proprio di toglierglielo quel dolore accettava il massaggio ma non sapevo manco dove mettergli mano comunque mi veniva istintivo massaggiarlo e migliorava ma dentro di me ero alla ricerca di una soluzione perché nessun medico gli dava soluzioni davano antidolorifici che non gli facevano effetto invece la moxibustione ha un un effetto immediato sulla risoluzione del dolore sembra una cosa da nulla ma così come la eh l'infiammazione del trigemino anche l'infiammazione del eh aiutatemi che ho problemi di memoria della sinusite ok eh insomma può essere utilizzato in tutto il corpo tranne nelle parti molli tipo occhi zone genitali ovviamente lo preciso perché ormai bisogna precisare tutto perché io ricevo domande allucinanti di ogni genere e non va appoggiata alla pelle il sigaro questo lo ribadisco anche nel libro perché c'è chi invece pensa che si appoggi alla pelle hai altri casi concreti che hai trattato e che vuoi raccontarci e che hanno avuto particolare efficacia? Eh moxibustione o coppettazione? Coppettazione risolve eh sia antidolorifica sia decontratturante sia riequilibrante dello stato psicofisico in generale aumenta le difese immunitarie cioè ha una risposta intensa se abbinata a un massaggio completo intero dico ehm parlo di alcune tipologie di intervento che magari non sono conosciute come le borsiti per le borsiti no non si tocca non si massaggia non si no guai non andare dai massaggiatori questo è quello che viene detto dai medici però siccome i miei amici non so per quale motivo si fidino di ma mi fanno provare quindi nel mio libro ci sono questi esperimenti ecco fatti su amici eh fidati e ho risolto borsiti ho risolto infiammazioni di articolazioni per cui erano previste terapie invasive una persona doveva anche essere operata alla spalla abbiamo fatto coppettazione raffica dopo che ha fatto altri controlli gli hanno consigliato di non fare l'intervento eh quindi ecco si risolvono situazioni ti chiedo scusa cosa sta succedendo qui no niente siccome c'era un attimo di eh mi hanno quante quante sedute di solito sono necessarie immagino che non ci sia una regola però eh la mia regola è fare la prima fare la prima se si desidera imparare ad autotrattarsi se no si vede come reagisce il corpo quanto tempo passa da una terapia all'altra per capire quanto mh dura diciamo l'effetto perché bisogna anche vedere eh che tipo di lavoro fa la persona se porta determinati muscoli a un logorio costante cioè se vieni con un'infiammazione continui a praticare un'attività fisica che ehm alimenta diciamo questa infiammazione è inutile cioè togliamo l'acqua eh l'acqua viene rimessa mh non porta nulla quindi specialmente in questi casi o in casi cronicizzati preferisco che imparino ad autotrattarsi in modo da non creare dipendenza però ecco quello che mi diceva sempre il mio primo maestro che io ho tanta fiducia in lui veramente non c'è più adesso perché era già anziano allora eh lui eh faceva dieci trattamenti consecutivi tutti i giorni di copertazione con stoppino con massaggio intenso dolorosissimo proprio la tecnica più dolorosa che io pratico è quella che mi ha eh insegnato lui profonda incisiva ma fa rinascere veramente eh dopo le dieci sedute praticamente eh diminuiva due trattamenti a settimana uno a settimana e abbandonava il cliente non proseguiva non voleva che dipendessero da lui ma posso assicurare perché io ho provato le sue cure ho provato a ricevere dieci giorni consecutivi i suoi trattamenti con copertazione e dopo quei dieci giorni ero un essere umano nuovo sono arrivata là che avevo appena partorito la seconda figlia in crisi eh matrimoniale perché ero stata appena lasciata crisi post parto pubalgia sciatalgia cervicalgia tutta bloccata in fiammero tutta così praticamente con dolori atroci praticamente ancora dal riassestamento diciamo degli organi e dopo il parto dieci sedute era una potenza della natura ho ripreso in mano la mia vita e cambiata completamente la mia vita quindi non è solo una questione fisica si riattivano tutte le potenzialità che sono lì latenti schiacciate dal dolore dai pensieri si riattiva tutto anche perché insomma è sostanzialmente il progetto che portiamo avanti come casa editrice ma anche come scuola di antropatia e che quando ti abbiamo conosciuto abbiamo subito visto anche in te è proprio la condivisione questa visione olistica quindi insomma che tutto è collegato tutto è connesso quindi se è giusto qualcosa eh crea ovviamente una ripercussione anche su altre parti di quella di quel sistema e quindi insomma si innesca una reazione a catena virtuosa che poi risolve tante tante cose ed è uno dei temi che poi riscontriamo in tutte queste chiacchierate queste conversazioni che stiamo facendo a secondo dell'ospite dell'autore con cui parliamo c'è un approccio diverso però poi si arriva sempre lì che sia un cambio alimentare che sia l'approccio a difito complementi o appunto altre altre discipline poi alla fine è molto interessante perché si arriva tutti in quella direzione lì quindi nel raggiungimento di un benessere che riguarda poi l'intero organismo corpo mente spirito io confrontandomi con gli amici diciamo molti amici che hanno questa stessa visione eh confrontandomi con loro confrontandomi con maestri in altri campi in meditazione yoga riceviamo tutti gli stessi messaggi e tutti le stesse indicazioni per essere guidati e guidare gli altri a un questo qualcosa questo cambiamento che andremo che stiamo già vivendo ma andrà sempre più di intensificare eh mi accorgo mi ritrovo in mano ultimamente dei libri che dicono le stesse cose che ho scritto io nel mio libro cioè se le avessi letti precedentemente avrei potuto pensare di essere stata influenzata gli stessi messaggi cioè stesse informazioni ricevute da me cinque sei anni fa li sto leggendo in nuovi testi che sto acquistando ultimamente quindi penso che siamo tutti connessi chi lavora per il bene per portare benessere agli altri riceviamo diciamo una guida simile per chi nell'ambito diciamo del corpo chi della psiche perché ho amici anche psicoterapeuti psichiatri che lavorano sempre in questo contesto e con questa visione olistica l'ideale sarebbe riuscire a creare delle belle equip pluridisciplinari e fare ricerca il mio sogno fare ricerca sarebbe bellissimo con analisi del sangue ecografia prima dopo vedere i cambiamenti questo è il mio sogno concordo concordo molto molto interessante sì 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 e ovviamente eh dico ai vari partecipanti di questa live zoom che eh si possono sempre fare delle domande siamo qui siamo qui apposta a essere qui anche per per rispondere eventuali dubbi curiosità su gli argomenti di cui cui è esperta quindi insomma potete attivare l'audio per fare una domanda oppure scrivere tranquillamente in chat come come preferite estremamente noi noi andiamo andiamo avanti ecco con 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 gli argomenti che stiamo trattando eh parlare di auto autotrattamento Elsa e immagino che non ci si possa ovviamente autotrattare in tutti i punti quindi ci sono delle tecniche specifiche per l'autotrattamento l'autotrattamento con moxibustione eh sigaro di moxa è facile praticarlo ovunque perché anche in un collo si sollevano i capelli cioè per la donna l'uomo non è necessità se non è capellino allo specchio basta però avere sempre la cautela di eh mantenere la mano in appoggio sull'altra mano e si arriva in quasi tutti i punti si riesce ad arrivare con la coppettazione è già più difficile eh o si utilizza quella freddo e già con quella diciamo senza l'uso del fuoco è più facile arrivare in varie zone io riesco a farle arrivare ovunque se vedete la mia pagina facebook c'è qualche video di autocoppettazione ehm riesco a praticarla diciamo in varie parti del corpo per questo dico l'ideale è che due persone in famiglia imparino le metodologie in modo che si aiutino reciprocamente pure perché quando uno sta male non ha nessuna voglia di curarsi diciamolo ha voglia che qualcuno si prenda cura quindi però ehm anche tipo la moxibustione io le insegno specialmente alle persone anziane perché tutti i problemi di artrosi alle ginocchia le mani quando stanno davanti alla televisione ore e ore annoiate senza far nulla tanto vale accendono il sigaro e si curano piano piano si curano le varie parti del corpo un giorno alle mani un giorno le ginocchia mia mamma fa sta vita da anni e lì sempre questo sigaro e anche da altri signori amiche sue quello insegnato bello bello arrivati a questo punto volevo far vedere qualche estratto dei video che abbiamo girato che sono collegati al libro quindi condivido la pagina ecco qui come dicevo nel libro ci sono poi le indicazioni per accedere a quest'area riservata del nostro sito in cui ci sono come potete vedere caricati i video da poter visionare sono suddivisi in in tre diciamo capitoli metodi e tecniche di coppettazione metodi e tecniche di moxibustione e poi altre tecniche quelle di cui abbiamo abbiamo parlato e all'interno di questi di questi video si possono insomma visionare poi ho tolto ho tolto l'audio perché insomma siamo noi che ci parliamo sopra ecco non so se vuoi commentare qualcosa però ecco a me è incuriosito perché non avendo mai approcciato questo tipo di tecniche vedendoti eh insomma dai tante istruzioni proprio su come muoversi su come maneggiare il questi strumenti ecco perché non è non è immediato ci si può magari anche fare un pochino di male e in questo modo insomma mostri proprio tutti i vari i vari passaggi per per fare quanto quanto è meglio fare no ma non ci si può far male proprio se si è distratti e ci si brucia ma bisogna essere distratti ci vuole attenzione dico come in tutte le cose certo comunque ero emozionatissima la stavo muovendo il giorno ecco giusto per far vedere come è insomma anche in questa parte molto molto didattico e permette proprio di visionare come come si può lavorare nel concreto da casa sono estremamente piacevoli questo tipo di di trattamenti ma tu l'hai provata sì l'ho provata l'ho provata e sì sì non da mano tua non ancora ma io a milano non venrò più vieni a messina se la vuoi infatti portarti a milano è stata un'impresa ma no ma io non amo spostare io non amo viaggiare proprio quindi proprio milano vuoi viaggiare per andare a milano no però insomma almeno poi ci siamo conosciuti ci siamo visti ma venire da voi nella vostra scuola è stato come entrare in un oasi era tutto grigio piovoso sono entrata voi luminoso accogliente sembrava fuori dal mondo non sembrava milano la vostra scuola c'era un'energia di di bellezza di di armonia accoglienza si stava benissimo infatti mi sono sentita a mio agio ecco qui che mostri la tecnica mobile questa questa è per il drenaggio della schiena che poi si può usare per decontratturare un muscolo lungo questo è proprio il drenaggio della schiena attrezzature sono semplicissime tra l'altro da le bocce alcune le prime che ho utilizzato sono quelle dello yogurt quindi non devono nemmeno essere acquistate basta comprare di yogurt nei vasetti di vetro quelle invece tonde e che servono per la coppettazione mobile si acquistano su internet e sono le bocce cinesi che hanno il bordo molto più spesso sono più pesanti più più grosse più spesse come vetro come si realizza lo stop in qui mostri anche proprio praticamente si mi ricordo come mi tremavano le mani quel giorno non me ne potete accorgere ma io so come tremavo trovo tutta beh insomma ti sei messa alla prova una grande prova mi avete messa alla prova mi avete fatto superare una paura infinita però è uno strumento veramente veramente utile tanti lettori insomma ce l'hanno segnalato che questa metodologia è quella consigliata specialmente per i problemi bronchiali polmonari perché molto intensa produce una un'aspirazione potentissima quindi riesce a liberare i bronchi da dai liquidi da anche per i problemi intestinali sono anche proprio belli da vedere come corpo regisce come degli strumenti così semplici permettono una guarigione così così profonda nella pagina facebook di coppettazione c'è un video con questi questa applicazione sul mio figlio che l'ho usato come cavia per i video c'è qualche altro facciamo vedere qualcosa e farei dare qualcosa di moxibustione per chi magari credo che chi si sia collegato conosca tutta questa metodologia però questa è con i coni questa io la uso poco per dire la verità mostriamo qualche passaggio ah questa è quello zenzero indiretta sì il metodo indiretto eccolo qua non avevo notato che facevamo pubblicità una marca di slip qui abbiamo i cilindri di moxa ad esempio in modo che non rimangano insomma troppo teorici ecco questi contenuti è importante riuscire a poter a poter vedere proprio nel nel concreto come come si fa come sono fatti ma il mio scopo era principalmente questo di cose fossi stata diciamo venale fra virgolette avrei puntato solo a fare un libro sulle tecniche perché dico sai bene anche tu che investimento per voi e per me è stato realizzare un testo così così pieno così pieno così pieno di immagini a colori quindi fare solo 200 300 pagine di teoria sarebbe stato maggiore per entrambi il guadagno e e minore il lavoro però ho voluto dare un testo completo perché si possa trovare sia la teoria sia la teoria della medicina cinese sia gli effetti reali delle tecniche esterne in generale questo perché pure perché anni fa mi trovai a trattare delle colleghe che non sono diciamo le mie amiche intime colleghe amiche intime che non conoscevo nel sistema linfatico non conoscevo nel sistema circolatorio non avevo un'idea di cosa produce essere in un corpo quindi mi auguro ecco più che altro questa parte teorica per chi desidera diventare operator olistico per chi desidera diventare massaggiatore in modo che possa approfondire delle conoscenze che è difficile acquisire perché effettivamente per trovare le informazioni che ci sono in un paragrafo io ho dovuto studiare quattro cinque libri magari in uno era accennato una cosa in uno in un altro quindi è veramente difficile per chi non ama studiare io invece quando inizio non riesco a smettere purtroppo poi dimentico tutto poi proprio cancello però inizio a studiare non riesco a fermarmi ci ho studiato mentre cucinavo in macchina ovunque nelle palestre ero studiavo ovunque ovunque mi trovassi non riuscivo a smettere lo racconti anche nel tuo nel tuo libro adesso mostriamo quest'ultima tecnica poi ci sono arrivate alcune domande quindi iniziamo a passare questo riguarda più l'aspetto estetico perché ovviamente tutte queste metodologie possano essere utilizzate nel campo estetico per quanto riguarda il viso solo la coppettazione senza uso del fuoco con le coppette di silicone oppure quelle con la pompetta e la coppa di vetro però sono ad aspirazione blanda sono delicate e il guascia perché aiutano a portare in superficie mi sono distratta perché ho il gatto che vuole bere dal mio bicchiere scusate mi sono ripreso il bicchiere Giorgio mi ha liberata scusa approfitta a bere quindi produce un produce un'ossigenazione della cute stende le rughe illumina la pelle invece nel corpo per quanto riguarda appunto la coppettazione per l'aspetto estetico si può utilizzare per il drenaggio, per la cellulite e anche ovviamente per dare per sbloccare il sistema linfatico affinché il metabolismo si modifichi perché estetica non significa togliere la cellulite ma aiutare un corpo a modificare il proprio metabolismo quindi anche questo cioè il lavoro sullo sblocco del metabolismo è fondamentale e là si possono utilizzare le bocce anche col fuoco però non quelle con lo stoppino non conviene quelle con lo stoppino perché sono troppo intense e ci vuole una soluzione media per la coppettazione mobile quindi i campi di applicazione sono tantissimi anche per quanto riguarda l'aspetto psicologico ora prendiamo magari uno psicoterapeuta che non può toccare il corpo di un paziente non può massaggiarlo perché non è ritenuto opportuno ancora anche che secondo me andrebbe fatto insieme comunque però può lavorare con moxibustione o digitopressione su agopunti di mano e polso per calmare, sedare l'ansia gli stati di panico cioè basta conoscere 4-5 agopunti localizzati sul polso e in mano e si calma immediatamente la persona quindi lo studio degli agopunti e delle associazioni fra i meridiani e le emozioni e come modificare queste emozioni attraverso l'intervento sui agopunti può servire anche ad altre categorie che non sono i massaggiatori gli osteopati, i masso-terapisti ecco, dipende dalla volontà, dalla voglia che si ha di ampliare la propria il proprio campo di conoscenza nella propria competenza poi può servire a tutti allora ringraziamo intanto Claudia che è anche una collaboratrice della nostra casa editrice che fa i complimenti per lo splendido lavoro anche editoriale è una grande amante dei libri e la ringraziamo per le sue complimenti ha detto che le ha scattata la molla della curiosità verso questi argomenti che non sia l'inizio di qualcosa Franca consiglia questo magnifico testo a scuola di medicina cinese estetiste, medicina allo sport singoli operatori euristici insomma come ci siamo detti più volte sono tecniche ed è un testo che può veramente essere di aiuto per molte molte figure Samantha chiede se tieni il corso in presenza sarebbe bello partecipare faccio un grande respiro ho avuto proposte io ho paura a insegnare sono terrorizzata non lo so ancora ecco già sto sudando io non sudando questa domanda sto sudando quindi se la mia reazione fisiologica è questa non so cosa mi voglia dire se è meglio non cimentarmi oppure se devo superare la paura vi farò sapere al momento no poi vi farò sapere casomai ma gruppi di autotrattamento gruppi di esistono si fanno possono essere anche delle esperienze interessanti al momento qua no non sono organizzata io do risposta a chi mi chiede appunto che vuole imparare io insegno in privato ma non come corsi non a pagamento cioè come come dono come passaggio perché comunque a me all'inizio la prima metodologia è stata donata quindi nell'ambito familiare amicale per me è un passare un testimone non certo se dovesse organizzare i corsi sarebbe differente perché ho due figli che mandano ma sai c'è tempo che faccio le spese è finito tutto quindi ecco in quel caso sì valuterei i guadagni Francesca chiede il titolo del testo ho messo nella chat il link sul sito dell'edizione il titolo è un titolo molto lungo ma abbiamo deciso di tenerlo perché ovviamente il libro continua tante informazioni metodi e tecniche di coppettazione emoxibustione e altre cure esterne secondo la medicina tradizionale cinese sotto titolo lo rileggo approccio integrato all'anatomia alla fisiologia inserito in un percorso psicospirituale per l'armonia di corpo mente e spirito è un libro solo il titolo esatto settecentotrenta pagine con illustrazioni tavole video avete Elsa a casa vostra che vi spiega l'amico mi ha detto che già l'introduzione e la conclusione sono un romanzo assestante cioè già solo quello è un libro che in pochi l'hanno letto mia mamma lo sta leggendo invece stranamente Matteo chiede credeva che queste tecniche fossero molto più utilizzate nello sport dagli atleti diciamo che ultimamente sta andando di moda nell'ambito dello sport però come terapie erano prettamente medica cioè prima diciamo dell'avvento della farmacologia come la conosciamo adesso i medici di famiglia la praticavano come terapia per curare la pleurite la bronchite cioè veniva utilizzata dai medici cioè mio papà mi raccontava che nel dopoguerra lui era ragazzino il medico di famiglia curava la pleurite a suo cugino con la coppettazione quindi era proprio una metodologia medica per la cura di patologie polmonari o per dolori forti per blocchi c'era colpo della strega ecco in questi casi veniva utilizzato molto sulla schiena e sul petto poco in altre parti del corpo poi spostandosi diciamo nell'ambito sportivo si è cominciato ad utilizzarla in più ambiti e in più ambiti in più parti del corpo scusate mi sono distratta perché ho la gatta che spinge la lampada le piace tanto questa lampada quindi non so se la pacca d'error recuperano la gatta ecco l'hanno presa tra l'altro questa cosa che stai dicendo mi fa venire in mente come si sono importanti le tecniche però vedendoti anche al lavoro all'opera quando abbiamo registrato il video erano dei modelli però quello che mi ha colpito di te che poi auguro di trovare insomma in ogni persona che si avvicina a un percorso da terapeuta è proprio l'empatia l'ascolto dell'altro per capire che cosa è giusto per lui quindi è importante essere bravi tecnici però ecco quella sensibilità e quella capacità di ascoltare è estremamente estremamente importante il massaggio diventa una fusione di energia è come un fare dell'amore dell'anima quindi se non si entra pienamente in quell'amore diventa un po' da mercenari quindi dobbiamo chiederci cosa vogliamo essere se vogliamo essere guide o mercenari poi ho tanta fede tanta 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 fede nel libro lo spieghi molto bene leggo qualche riga sempre nella nella premessa che tu hai scritto al libro imparavo a respirare ad ascoltare ogni cellula del mio essere a percepire i blocchi su cui lavorare a collegare attraverso visioni i miei limiti emotivi e fisici a traumi psichici a trovare la chiave per trasformare in positivo ogni esperienza a purificarmi dalle energie pesanti a portare a unità il mio essere attraverso la scelta cosciente delle azioni quotidiane imparavo ad ascoltare gli altri corpi e le altre anime sempre più profondamente senza prendere su di me i loro pesi a guidare nell'ascolto del proprio corpo e all'interno dei propri traumi forgendo quelle chiavi con cui aprire lucchetti delle loro catene e vivere di libertà quindi insomma ecco così l'abbiamo anche conosciuto e Sirio ne abbiamo due c'è anche la femminuccia insomma da queste righe che ho letto emerge come il il tuo percorso personale le difficoltà le prove le sfide che sono state tantissime da questo libro emergono tutte ti abbia donato poi quella quella sensibilità e quella capacità di entrare in una relazione così profonda con con l'altro e nello specifico di cui stiamo parlando nell'altro che si va a trattare quindi partire da se stessi dalle proprie ferite per poi riuscire a il massaggio è solo uno strumento prima lo facevo come assistente sociale io dico ognuno di noi nell'ambito in cui ci si trova si lavora deve utilizzare quello strumento per stare con l'altro e crescere insieme all'altro cioè qualsiasi sia il lavoro non bisogna essere per forza operatori o medici o o curare l'altro cioè qualsiasi anche in un ufficio pubblico se c'è un'accoglienza con un bel sorriso con la voglia di aiutare ma è una cosa meravigliosa io mi sono abbracciata delle dipendenti pubbliche perché proprio mi hanno dimostrato questa accoglienza la devo abbracciare perché questo cioè poi si crea veramente empatia con persone che non si conoscono ma c'è uno scambio così profondo così bello che fa commuovere ma questo è vivere che se no alla fine che cos'è vivere qualsiasi lavoro si faccia che si faccia così sì comunque rispetto all'esperienza della vita cioè io dal primo giorno di vita ho avuto brutte esperienze veramente io ride e scherzo oggi parlavo con la persona un'altra ora mia mamma e ho detto mamma ma ci pensi ma ci pensi a tutto quello che abbiamo superato in tutti questi anni dice sì sì ci penso ma ci pensi che ora ridiamo e scherziamo ed è tutto superato sì cioè non bisogna arrendersi ogni prova serve serve tutto per diventare quello che si deve diventare se non fossi stata fermata mille volte non sarei arrivata a questo magari ora sarei una dipendente pubblica normale fare il mio lavoro e non sarei qui a parlare con voi invece fallimento un fallimento l'altro fallimento malattie incidenti investigata all'auto a letto per mesi cioè tutte queste cose mi hanno indirizzato verso la ricerca della cura la risoluzione del dolore senza farmaci perché io non ho mai potuto assumere antinfiammatori e antidolorifici quindi facevamo giri cioè dai 14 ai 16 anni pure incidenti a non finire facevamo giri fra ortopedico fisioterapista massaggiatore omeopata cioè mia mamma poveretta per questo dico sempre imparate le tecniche economiche grazie a Dio i miei genitori mi potevano fare curare ma non è che tutti possono mantenersi determinate cure quindi poi sono andata a cercare tecniche sempre più efficaci che potessi praticare su me stessa quindi nasce da un'esperienza personale del dolore infatti c'è una mia amica e collega che mi dice sempre ma come sei fortunata che hai provato tutti questi dolori perché tu sai che cosa si prova io non vi dico come te le rispondo però già sei fortunatissima che tu li conosci veramente grazie infatti leggo un altro passaggio dalla conclusione molto bello che insomma esprime proprio quello che stai raccontando l'intento iniziale di questo libro scaldava la mia anima come un sole che si irradia verso l'esterno i cui raggi si protraggono a raggiungere luoghi lontani per porgere alle famiglie gli strumenti idoni ad alleviare il dolore ma anche fruibili per le soluzioni svariate sintomatologie attraverso l'autotrattamento quindi insomma anche questa del sole è un'immagine molto 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 bella che conclude poi il percorso che è descritto con l'apertura del libro che poi a conclusione dopo aver esposto questa mole enorme di conoscenze arrivi poi a però l'alletto mi ha detto che è molto discorsivo che non è pesante da leggere ecco questo lo dico a chi no no lo confermo avendolo anche noi letto due o tre volte in redazione per apportare insomma quelle piccole quelle piccole correzioni è un libro che scorre molto bene e poi come dicevo sono anche le parti più tecniche sono intervallate da da profondi approfondimenti spunti molto 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 interessanti ecco che fanno parte come dicevo del percorso di Elsa quindi si spazia da Li Ching fino a tutta una serie di altre posso dire la struttura va un po' diciamo a scemare dalla parte tecnica psicologica spirituale perché il mio pensiero è stato se lo prendo in mano un medico un fisioterapista e comincio a leggere di spiritualità lo chiude e non lo legge più allora siccome io desidero che determinate informazioni arrivino specialmente a chi non ha la mia visione di vita mi spiego chi ha la mia visione di vita gli è inutile che vada a leggere quelle parti spirituali perché le condivide con me perché ci confrontiamo quotidianamente ma desidero proprio che determinate informazioni un po' più profonde arrivino piano piano non di impatto che spaventino per questo c'è prima tutta una parte un po' più strutturale man mano vado ad entrare in argomenti più spirituali parlando anche di cose un po' più intense quando parlo delle cause della malattia che infatti io credevo che me le avreste cancellate e invece no infatti ti ricordi la prima telefonata cioè io stavo guidando a cercare parcheggio per lasciare la macchina dal lavaggista pronto così ah cioè sì la casa editrice ne è ah sì mi davo vorremmo pubblicare ero disperata in quel momento posso chiamarvi tra cinque minuti devo prendere il respiro ho posteggiato e mi ho richiamato infatti il capitolo 18 è molto è molto bello e e richiama quanto stai dicendo che dagli effetti delle tecniche esterne capitolo molto generico e arrivi insomma parti dagli effetti neuroendocrini endorfine serotonina gli effetti del sistema circolatorio linfatico trigumentario gli effetti sulle cicatrici struttura tendine muscolare decontratturante struttura osso-articolare organi interni diffuse immunitarie poi inizia ad allargare il campo l'estetica la psiche l'anima fino a poi passare alla preghiera guarigione psicosomatica spirituale spirito e anima il mandato l'iching l'astrologia quindi parti dagli effetti sull'apparato trigumentario sul sistema circolatorio linfatico per poi arrivare arriva la vostra anima una cosa che ci tengo a dire è che il paragrafo quello su spirito e anima mi è stato dettato nell'ultimo sogno del mattino infatti prima faccio tutta una premessa rispetto a questo e poi l'ho scritto tutto in corsivo perché non ho modificato nulla rispetto a come mi è stato dettato cioè appena sveglia l'ho riscritto subito c'era una voce perché non lo volevo scrivere e avevo detto di no perché per esempio posso dirle questa cosa o no me l'hai già chiesto quando ci siamo sentiti ieri ti ho detto nessun problema tre anni e mezzo venivo svegliato alle cinque del mattino Elsa alzati devi scrivere io non voglio dormire voglio dormire alle sette e venti eravamo già in macchina per correre a scuola voglio dormire alzati e scrivi mi davano il paragrafo o lo sognavo o me lo suggerivano in dormiveglia mentre mi svegliavo e io quel giorno dovevo lavorare su quel paragrafo se non conoscevo i contenuti perché alcuni paragrafi io ignoravo totalmente il contenuto non avevo idea di cosa dovessi scrivere e questo come lo faccio è impossibile non lo posso fare tempo otto otto e mezzo del mattino cominciavo Elsa vuoi venire a una conferenza arrivavo un amico il serie libreria ho trovato un libro sentivo che dovevo portartelo cioè conferenze libri che mi arrivavano a casa aprivo il computer il telefono il computer manco lo su accendere accendevo il telefono e mi arrivano un link con tutti gli argomenti che mi servivano per sviluppare quel paragrafo quindi prendevo tutti i punti cardine e realizzavo il mio paragrafo è stato tutto così questo libro questo paragrafo non lo volevo scrivere proprio per l'importanza dell'argomento secondo me richiedeva uno studio approfondito veramente di filosofi cioè anche per scrivere due parole poi leggerete quello sull'astrologia ho studiato tanto prima di riuscire a scrivere quel paragrafo per dare dei riferimenti che ora non mi ricordo più però riuscivo un bel paragrafo allora perché quattro anni fa lo scrissi questo per me era troppo importante come argomento per ridurlo a un paragrafo e ho detto no non lo scrivo era l'ultimo avevo già finito il libro non c'era qua perché a metà il libro adesso questo qui non c'era questo paragrafo durante la notte nell'ultimo sogno del mattino una voce maschile che è la voce che sento da sempre quando ero bambina mi ha detto di prendere carta e penna e di scrivere e io in questo sogno trascrivevo tutto quello che mi diceva lui quindi appena ho aperto io che in quel periodo tenevo sul comodino carta e penna perché non ho memoria da che mi sveglio a me una volta sono stati dati pure i numeri e il super enalotto l'ho dimenticato l'ho dimenticato e vabbè perché dovevo lavorare e se avessi vinto non alzarei qua con voi col libro dovevo lavorare e così ora ora li posso vincere me li potete ridare e mi ha dettato questo paragrafetto che è piccolissimo ma intenso perché non è mio ok questo diciamo sono d'accordo su quasi tutto quello che è scritto in questo paragrafetto però io avrei aggiunto tante altre cose che non ho messo perché non era giusto dovevo riportarlo per come mi è stato dettato va bene io non so se qualcuno ha domande curiosità noi siamo qui per ormai è un'ora che siamo che siamo collegati che abbiamo raccontato ci siamo raccontati tantissime cose se ci fosse qualche domanda facile domande facili tipo quanti anni ho rispondo non sono di quelle donne che non lo dice sciogliamo qualche curiosità altrimenti ci avviciniamo verso la conclusione se c'è qualche timido invece vorrei chiedere perché c'è qualcuno che ha ricevuto i miei trattamenti anche di coppettazione presente non faccio nomi se vuole portare la propria testimonianza mi fa piacere eccola che si attiva no non si attiva sono collegata ciao buonasera sì volevo testimoniare la con la coppettazione quando ho avuto la largo distrofia alla alla mano avevo la mano molto gonfia e ho ricevuto un un benessere immediato anche se in quel momento avevo molto dolore e ho avuto beneficio e anche sempre con la coppettazione per dolori alla schiena intermiate parti localizzate la cosa bella è che è stato un solo trattamento che mi ha dato un beneficio che è durato ecco diciamo penso che questa tecnica sia così forte così intensa che possa dare un risultato anche come dire anche con dei singoli trattamenti certo in patologie croniche magari la bisogna insistere però in sintomatologie magari acute potrebbe anche solo trattamento insomma essere efficace grazie sì è quello che quando è stato per la mano quando sono stata operata ho avuto la protesi e avevo la mano molto confia è stata per me un'esperienza molto utile grazie grazie non so se abbiamo concluso forse non ci sono domande direi che possiamo darci la buonanotte grazie per questa occasione grazie a te Elsa ricordo che la registrazione di questa chiacchierata rimarrà sarà resa disponibile online nel giro di un paio di giorni e quindi potrà potrà essere rivista ti ringrazio ancora Elsa per aver partecipato a questo incontro grazie a te e grazie a chi ha partecipato vi abbraccio chiedono chiedono domandina dell'ultimo momento se sono previste traduzioni estere io sicuro non posso tradurre al massimo in siciliano e mi manco stiamo stiamo a vedere insomma dai in che lingua la traduciamo Lorenzo tutto può succedere tutto può succedere in realtà sono sono gli editori esteri che traducono il libro e quindi che decidono di portare un certo contenuto nel loro nel loro paese ecco meglio lo facciamo conoscere quando ho frequentato il corso di lettura dell'aura la mia maestra le ho chiesto di farmi la lettura del libro e mi ha detto che avrebbe avuto un grande successo in Germania secondo me perché parlo di Santa Il Degarda e loro sono molto devoti a Santa Il Degarda che è la loro santa Germania poi è un paese molto attivo su questi temi quindi c'è c'è una grande produzione anche editoriale facciamo io lo conoscere troviamo troviamo il modo di arrivare oltre alpe portiamo il calore della Sicilia su bravo giusto anche se penso che ormai sta salendo il calore avete più caldo che noi ormai praticamente benissimo grazie ancora allora grazie a voi tutti voi che avete partecipato e una buonanotte buonanotte grazie buonanotte grazie grazie ciao ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti